Bella a tutti raga, qui è Miro ed eccoci qua in questo nuovo video Allora, come cominciare precisamente? Come cominciare perché, credetemi, non è facile Non è per niente altro, come se sta a spella tutta la testa, cose accadono Allora, sempre ricordando il fatto che ultimamente abbiamo vissuto un inizio di calciomercato Tra virgolette, fantasmagorico perché c'erano notizie ogni 5 minuti E quello che arriva è quello che viene, quello che non si sa se viene, quello che non si sa se parte Comunque, era veramente colmo di notizie Un calciomercato veramente scoppiettante dove ogni giorno comunque c'era qualcosa di cui parlare Adesso stiamo vivendo un momento di stallo Secondo me è anche abbastanza necessario perché è arrivato il momento in cui il mister deve studiare la squadra E, secondo me, capire quali sono gli eventuali elementi da sostituire, gli eventuali correttivi e tutto quanto Quindi è fisiologico che in questo momento ci sia un po' più di tranquillità, di acqua e calme Perché, giustamente, bisogna capire se è il caso di dover fare delle cessioni e chi andare a prendere Però, in tutte queste acque tranquille, in tutta questa tranquillità, e mi incomincio anche a spostare di qua C'è stato un qualcosa che a me, diciamo che non mi ha fatto particolarmente piacere Anche se è un qualcosa che bisogna dover prendere con le pinze Secondo me Intanto ve lo faccio vedere Sto parlando precisamente di questa cosa qua È un'intervista rilasciata dal presidente Giulini Cagliari, Giulini Mercato? Faremo ancora uno o due acquisti Intervistato a margine della partita amichevole di Chatillon tra Cagliari e Como Piccola parentesi che apro e chiudo immediatamente Io la partita praticamente non l'ho vista Ho visto un po' del primo tempo, ma ero al lavoro Ero concentrato principalmente a lavorare E ogni tanto buttavo un occhio sulla partita E questo è il motivo per cui non ne ho parlato So il risultato, so quanto è finita Perché più o meno la stavo vedendo Però non posso permettermi di giudicare una partita Che ho visto così, a mozzichi e bocconi Quindi non mi sono permesso di dire niente L'unica cosa che ho visto un po' meglio è stato Felici Che secondo me non ha giocato per niente male Ma per il resto taccio completamente Perché non ho criteri su cui poter dare un giudizio Il presidente rossobluto Maso Giunini a microfoni del TGR Sardegna Ha parlato del ritiro in Valle d'Aosta Con una breve considerazione sul mercato della squadra di Nicola Siamo contenti di essere tornato anche quest'anno qua in Valle d'Aosta Ci sono tanti tifosi qui e dal vicino Piemonte Quindi riusciamo a raccogliere un bacino di innamorati del Cagliari Che possono vedere la squadra almeno durante questo periodo di ritiro Speriamo di tornare anche l'anno prossimo Vogliamo dare continuità Mercato? Abbiamo fatto parecchio Abbiamo già preso 5 calciatori importanti nelle prime settimane di mercato Faremo altri uno o due innesti Ora Ora E torno a schermo intero Ci sono delle cose che sono abbastanza sbagliate E abbastanza è un eufemismo Perché sono decisamente sbagliate La prima è che non sono stati fatti 5 acquisti Ne sono stati fatti in realtà di più Ma Questo è un dettaglio irrilevante Il fatto è che faremo altri uno o due innesti Io Non capisco il senso di questa affermazione Non ha il minimo senso Perché Da anni Anni Si parla di squadra da rifondare E lo si fa con cognizione di causa Con Delle evidenze Portate Da tutti i campionati Da un paio di anni a questa parte Lo diciamo perché è così È fisiologico Che sia così Ma Evidentemente Nessuno si è posto questo problema O Perlomeno la dirigenza Crede che in realtà Non ci sia Bisogno Di rifondare E qui c'è Un grave Gravissimo Errore Ma Gravissimo Andiamo a vedere Perché questo è un grave errore Allora Vi porto Qui con me Voi ancora non state vedendo Ma a breve Vedrete Ve lo giuro Ecco qua Mi sono fatto Al volo Proprio al volissimo Nella maniera più rapida possibile Una leggenda Di quello che è stato Il calciomercato Del Cagliari In questa sessione estiva Qui vedete Una leggenda Con un paio di formule Qui Mi sono appuntato Giuste due cose al volo Su Adopo E su Piccoli Tra l'altro Mi è Appena arrivata Una notifica Da parte Del canale web Del Canale whatsapp Del Cagliari Dove c'è una foto Di Di viola E la padula Che si stringono La mano Così Sicuramente Chi Chi è iscritto L'avrà vista Boh Così Random Vabbè Allora Andiamo a vedere Quelli che sono State le Cessioni Perché Giustamente Io ho messo A sinistra gli acquisti A destra le cessioni Sarebbe stato logico Fare il contrario Ma va bene così Abbiamo perso Nandez A zero Come vedete qua FC E fine contratto Andato all'Alcazia Per zero Rescissione Del contratto Di Contini Che poi si è accasato Al Virtus Verona Prelec Ceduto con prestito Con diritto di riscatto Non sono riuscito A trovare le cifre Per l'eventuale Riscatto di Prelec De Sogus Ceduto al Cittadella Con A titolo definitivo Però vedete Più R Che vuol dire Più potenziale Riacquisto Da parte del Cagliari Anche qui Le cifre dell'affare Non le ho trovate Da nessuna parte Palomba È andato in prestito secco Alla Vispesaro Così come Cavuoti È andato in prestito secco Alla Ferralpi Salò Cavuoti Collegato All'affare di Felici Travaglini È andato a titolo definitivo Alla Propatria Ma non sappiamo Le cifre dell'affare Dossena Ceduto a titolo definitivo Al Como Per 8 milioni Viola Ovviamente è stato ceduto Ma non è stato ceduto Perché FC Vedete Fine contratto Quindi gli è scaduto il contratto Fine prestito per Oristagno Fine prestito per Gaetano Fine prestito per Shomurodov E fine prestito per Petagna Tutti questi a zero E in più L'ultima cessione È stata quella di Sulemana Per 7 milioni e mezzo Il che Porta un totale Delle cessioni Ragazzi Solo due cessioni Per 15 milioni E mezzo Di euro Anche qui Visto i risultati Che hai avuto Nella stagione scorsa Pensare solo di fare 1 barra 2 acquisti Con un tesoretto Di 15,5 milioni Mi sembra un po' strano Perché tu hai dei giocatori Da dover cedere Comunque Ancora Però In effetti Qualcuno potrebbe ribattere Non ribattete Perché qualcuno potrebbe dire Eh ma non sono 15,5 milioni Perché tu hai fatto anche Degli acquisti Vero Adesso andiamo a vedere Il quadro completo Lasciamo perdere Che io Per una mia questione Di precisione personale Ho voluto mettere Tutti I ritorni dai prestiti Da Cavuoti Fino a Curfalidis Non li teniamo Più di tanto In considerazione Abbiamo A dopo Che arriva dall'Atalanta Con la formula del prestito Con diritto di riscatto Diritto di riscatto Che si aggira Intorno ai 4 milioni Per a dopo E 12 per piccoli Così evito di dirlo Dopo Ah dopo Ehm Quindi A costo zero L'arrivo praticamente Felici Arriva dalla Feralpi Salò per il costo Di un milione A titolo definitivo Sherry Arriva dall'Egnazia Egnatia Egnazia Non so come cazzo si dica A titolo definitivo Per 300 mila euro Zortea Arriva a titolo definitivo Dall'Atalanta Per 5 milioni di euro Luperto Arriva dall'Empoli A titolo definitivo Per 3 milioni e mezzo di euro In più C'è sempre il prestito Con diritto di riscatto Di piccoli Sempre dall'Atalanta Travaglini Vabbè Andava messo sopra Me lo so scordato Fine prestito Dal Taranto E poi il ritorno A parametro 0 Di viola Andando a contarli Sono 1 2 3 4 5 6 E in realtà Alle tue qualifiche Ma tralasciando questo La situazione globale Porta A questa situazione Abbiamo 15,5 milioni Ottenuti dalle cessioni 9 milioni e 8 Per gli acquisti Per un totale Di 5 milioni e 700 mila euro In positivo Quindi Facendo i conti della serva Fatti un po' così Il Cagliari Ha ancora A disposizione 5 milioni e 700 mila euro Che sono Proventi Diretti Delle trattative Di calciomercato E questi 5,7 milioni Si potrebbero Aggiungere A quelli che sono Gli eventuali Utili Ottenuti Dal Cagliari Dalla stagione precedente Che Non so A quanto Possono ammortare Ma credo che Almeno Almeno A 6 7 Ma anche 8 milioni Secondo me Ci possiamo Tranquillamente Arrivare Quindi Banalmente Abbiamo ancora Altri 7 milioni Da dover spendere Come possiamo Pensare Di fare Soltanto Un altro Barra 2 Acquisti Sono troppo pochi Ma non per il fatto Che abbiamo Quella cifra 7 milioni Per 2 Acquisti Secondo me È una cifra Che ci può Anche stare Non è che Sono pochi I soldi O sono pochi Il numero Dei giocatori Da comprare Cioè Quello si E che c'è Un problema Di base E Il problema Di base Ragazzi Mi metto Un attimo A schermo Intero Perché Così Almeno Tra l'altro Ve lo faccio Vedere Così Questo è Quello Che vedo Io Di solito E Il problema Di base È che tu Devi anche andare a vedere Per esempio Tu hai preso Sherry Ma hai ancora Radunovic Che tu devi andare a cedere E guadagnerai dei soldi Probabilmente Tu hai ancora Da Vietesca Mina A Zitiacos Dubito fortemente Che uno di questi Rimarrà E tu quel reparto Lo devi andare a rinforzare Perché poi andrai A cedere anche Catena in prestito Mina Si parla Se non mi sbaglio Del Vodafogo Era O l'atletico Minero Interessato Al giocatore Non mi puoi Prendere come sostituzione Zappa E spostarla A centrale Perché non è Quella la soluzione Mi devi andare a rinforzare Quel reparto Che è stato Il reparto Più disastrato Degli ultimi anni Che ha sempre avuto Delle problematiche Importanti Mi lo devi andare a rinforzare A ZI A ZI Non può rimanere Ancora in serie A Tu mi devi necessariamente Andare a prendere Qualcuno Per sostituire A ZI Perché a livello numerico Tu hai bisogno Di qualcuno Che ti giochi In quel ruolo Ne hai proprio Un bisogno fisico Non mi vuoi andare a prendere Nessuno Perfetto Però non mi vai a cedere Veroli Non me lo vai a cedere Com'è possibile Che noi a centrocampo Abbiamo ancora De Iola Abbiamo ancora De Iola Che sicuramente Sarà Un giocatore del Cagliari Anche per la prossima stagione Tu hai ancora De Iola E Mi vieni a dire Che possiamo fare Altri Uno Barra due Acquisti Perché io Già qui ne vedo tre Già qui ne vedo tre Vedo un difensore centrale Un esterno sinistro E un centrocampista Vedo un altro centrocampista Nonostante a dopo Nonostante tutto Perché comunque Kurfalidis Anche lui Andrà via Cioè vi rendete conto Che questo ha 21 anni E ancora praticamente Nessuno L'ha voluto far giocare In Serie A Ha esordito In Serie A Ma io intendo Giocare Conoscere la categoria Nessuno ci vuole puntare Bah Ianto Ragazzi Ianto Io Se Lo ianto Dello scorso anno Io Non me lo tengo Io lo vado a cedere E lo vado a cedere Prima di subito Ma lo devo anche andare A sostituire Per Eiro E del Pupo Dei trequartisti Poco ci importa Se giocheremo Con il 3-5-2 Se giocheremo Con il 3-4-1-2 È probabile Che quel trequartista Lo andrà a fare Gaetano Se giocheremo Con il 3-4-2-1 Abbiamo bisogno Di opzioni E probabilmente In quel caso Comunque Non ci sarà bisogno Di andare a fare acquisti Perché potremo Tranquillamente Giocare con Gaetano In Luvumbo Dietro l'unica punta A proposito di punte Io qui vedo Una marea di gente Tra l'altro Felice alla sinistra Che può giocare Anche tra le quartista Se non mi sbaglio O probabilmente Sarà lui No Lui ha giocato Da esterno sinistro Quindi A maggior ragione Tu dovresti andare A cedere a ci A proposito di punte Luvumbo In realtà Non è una punta centrale Ma vabbè Piccoli Mi auguro Sia la Prima punta Nel prossimo anno Tu la patula Me lo devi andare A cedere Perché ha 34 anni E non può più Giocare in serie A Mutandua Me lo puoi tenere Come attaccante Di riserva Pavoletti è proprio L'ultima spiaggia Non deve vedere Il campo Più di Cinque partite Secondo me Quest'anno Pavoletti Perché Non se ne può più Mi deve andare A prendere una punta Di riserva E abbiamo Una punta di riserva Un difensore centrale Un centrocampista Ma Sto parlando Di acquisti Sostanziosi Di acquisti Che portino Un upgrade Non sto parlando Di acquisti Fatti Tanto per fare Perché se li devi fare Tanto per fare A questo punto Mi tengo Quelli che oggi È rosa Ma banalmente Perché li conosco E so cosa Mi possono O non possono dare Ma qui abbiamo Bisogno veramente Di acquisti Di rilievo Per dirvi Sempre per fare nomi Un Brescianini Che andrà All'Atalanta Mi pare Però Per farvi capire Più o meno Il profilo Di quei giocatori Un Monterisi Per citare Sempre un altro Giocatore Del Frosinone Giocatori Di questo calibro Giocatori Che hanno dimostrato Di poter giocare In serie A Giocatori che hanno Dimostrato Che la serie A È la loro Categoria Questo è quello Di cui ha bisogno Il Cagliari Ma non sono Uno o due Acquisti In realtà Sono molti Molti di più E io non capisco Il motivo Di questa esternazione Perché il presidente Siene uscito Con questa frase Che secondo me È abbastanza Preoccupante Perché io Per il Cagliari Mi auguro sempre Non campagne Acquiste faraoniche Tipo quelle Del Paris Saint Germain Ma campagne Acquiste Fatte con Cognizione di causa E Per il momento Io non sto Vedendo tutto questo Poi qualcuno Mi potrebbe dire Ma non ci sono I soldi Trasciando il fatto Che Secondo me I soldi Ci sono Ma va bene Trasciando il fatto Che tu Comunque Non è detto Sarebbe bello Ma non è detto Se lo fai Per rinforzarlo Che tu debba Chiudere ogni Sessione di calciomercato Con il bilancio In positivo Puoi chiuderlo Anche con un negativo Ma va bene Capisco Il cercare di rendere Il cagliere un esercizio florido A ogni chiusura Però Se tu non hai soldi Basta Finito Chiuso Vuol dire che Non puoi Permetterti Di mandare avanti In maniera Continua Questo esercizio Non puoi Permetterti Di mandare avanti Questa azienda Perché Una squadra di calcio È un'azienda Che ha bisogno Di costanti mutamenti Che ha bisogno Sempre di essere Tassellata A volte in maniera Più o meno Impattante A livello economico Se tu Non hai Queste possibilità E se non ti sei creato Le basi Nel passato Per avere questo tipo Di possibilità Nel futuro È evidente Quanto tu Abbia fallito Nel corso Di questi anni E se non hai La disponibilità Economica Per poter fare questo Devi cedere C'è poco Da dire C'è poco Da fare C'è poco Da chiacchierare Devi cedere Punto Si vuole far passare Il fatto che Giulini Sia Uno Dei pochi Presidenti Italiani Ancora in serie A Bello Per carità Tutto quello Che vi pare Ma se non sei in grado Di mandare avanti Una società E se non riesci A far fronte Ad un Ad un tipo di sport Ad un tipo di calcio Che diventa Sempre più Cospicuo Oneroso A livello di denaro Fatti da parte Fatti da parte Perché quello Che dovevi fare prima Non l'hai fatto Ovvero Gettare le basi A mo' di Atalanta Fare acquisti Non così Con cifre Astronomiche Ma che si rivelino Funzionali Nel campo Per fare in modo Poi Di far alzare Il loro valore Speculazione calcistica Sostanzialmente Comprare giocatori A poco Per rivenderli A tanto Tu non sei stato In grado Di fare questo Non sei stato In grado Di puntare Sui giovani Che la tua Cantera Ha formato Perché li dai Da sviluppare Tra gli altri Non sei stato In grado Di sviluppare Tu Dei grandi Giocatori Da calciomercati Che hai fatto Perché la maggior parte Di giocatori Che hai comprato Li hai poi svenduti Soltanto Sulemana E Dossena Quest'anno Si sono rivelati Delle Delle plusvalenze Nette Ma Ci abbiamo Ricavato Secondo me Molto meno Di quello Che avremmo potuto Ricavarci E quindi Siamo di nuovo In mano Così Siamo da capo A 12 Boh Non lo so Però ci abbiamo bisogno Soltanto di uno Due acquisti Non lo so Vabbè Probabilmente Sarò strano io Già lo so Che molti mi diranno Che sono un rompicoglioni Che devo Criticare Tanto per criticare Che le mie critiche Non hanno fondamenta Va bene Va bene Tanto ho capito Di essere praticamente Un bastion contrario A prescindere Anche senza volerlo Però va bene Va bene così E niente ragazzi Il video finisce qui Fatemi sapere Voi qua sotto Nei commenti Cosa ne pensate E detto questo Noi ci becchiamo In un prossimo video Bella